Affrontiamo in questo video lo studio di Quintiliano, maestro, avvocato, retore, uomo perfettamente inserito in un sistema culturale e politico che Vespasiano stava cercando di ricomporre e anzi è proprio Vespasiano che di Quintiliano farà un po' il suo strumento per cercare di ricomporre quella frattura che si era creata tra gli intellettuali e il potere. Quintiliano arriva da Calagurris, dalla Spagna tarragonense, dove era nato tra il 30 e il 35 d.C., resterà in realtà poi a Roma per quasi tutto il primo secolo e a Roma morirà intorno al 96. Insegnante e avvocato già in Spagna viene richiamato a Roma nel 68 d.C. da Galba e non ci mette molto a farsi notare nella capitale dell'impero se è vero come è vero che due anni dopo, intorno al 70, Vespasiano lo promuove, insomma gli affida questa prima cattedra statale di eloquenza con uno stipendio importante di circa 100.000 sesterzi annui. Come scrive nel premio del sesto libro, fu nestata la sua esistenza dalla morte della moglie amata, giovanissima, aveva circa 19 anni, dei due bambini che da lei aveva avuto. Quintiliano esercitò a lungo questa attività per oltre 20 anni di retore e di insegnante e probabilmente fra i suoi allievi si annoverano uomini come primo giovane e tacito. Fu anche incaricato da Domiziano di educare i suoi nipoti e per questo ebbe gli ornamenti a consulari e per questo non risparmiò adulazioni nei confronti di Domiziano che addirittura nel decimo libro dell'istituzio oratoria giudica potenzialmente il più grande fra tutti i poeti. Peraltro queste adulazioni rientrano un po' anche in quello che era il clima del tempo, in quella che era la personalità di Domiziano stesso. Il dono 88 si ritira da ogni cosa e si dedica ai suoi studi, al suo capolavoro che appunto vedremo l'istituzio oratorio. Quintiano scrisse anche un De Causes Corrupte Eroquenze, un trattatello che a noi non è giunto ma del quale insomma in qualche modo riusciamo a ricostruire se non altro la tematica attraverso tutti gli scrittori dell'epoca precedenti e posteriori a Quintiano che parlano di queste cause della fine dell'eroquenza e riusciamo a ricostruire anche un po' la sua posizione che come vedremo è allineata con quella che poteva essere la visione di un maestro. Della fine dell'eroquenza si era occupato Seneca padre, Seneca il re, del quale aveva parlato di una legge maligna, una legge perpetua che fa ricadere in basso tutto ciò che arriva in alto, per cui come a dire l'epoca già Giulio Claudia avrebbe visto la fine di questo grande momento del pensiero latino che era stata l'eroquenza proprio per una sorta di capriccio del caso. Ma negli anni successivi, nei decenni successivi, Primo il Giovane per esempio scrive sotto Traiano si levano anche voci diverse. Primo il Giovane per esempio ne faceva un discorso, un problema quasi politico diceva che la schiavitù passata aveva portato ad una dimenticanza del diritto e delle arti liberali. Primo il Giovane salutava con gioia l'avvendo di Traiano e pensava che sotto Traiano si sarebbe potuta ritrovare quella libertà che da sé spingere l'eroquenza. È una posizione quella di Plinio che è un po' come dire blanda, un po' edulcorata, ma richiamano cose che avrebbe scritto più o meno negli stessi tempi tacito quando appunto associava la fine della grande eloquenza al problema politico della fine della libertà. Anche Seneca il filosofo, in una delle pistole all'ucilio, si era occupato di questo problema ma facendole una questione di tipo soprattutto morale e affidando al degrado dei costumi la causa della fine della grande eloquenza. Ancora in epoca imperiale uno scrittore greco di cui non conosciamo il nome ma che pubblica un'opera importante che è l'opera sul sublime in un dialogo porta avanti due punti di vista diversi. Da una parte quella di chi come abbiamo detto avrebbe fatto poi tacito giustifica la fine della grande eloquenza con la fine della libertà con la fine della repubblica, dall'altra quella di chi come un po' Seneca guardava il problema dal punto di vista morale. E ancora Petronio, ancora in epoca Giulio Claudia, si era occupato della questione, c'è un dialogo in cui il retore Agamennone se la prende un po' con i genitori che non vogliono dare ai figli la possibilità di studiare cose serie, cose importanti. Dice gli studenti nelle scuole li imbecilliscono da capo a piedi perché non si mette davanti ai loro occhi nulla che sappia di vita reale. Quindi un po' il metodo di studio diciamo è quello che attacca Petronio, un po' l'incapacità dei genitori e dei figli di dedicarsi con attenzione a queste cose. Era quello che probabilmente scriveva anche Quintiliano quando diceva che soprattutto il metodo educativo, i cattivi maestri avevano portato alla fine della grande eloquenza. Sappiamo che Quintiliano scrivesse anche delle declamazioni, agiamo anche delle declamazioni e dovette scrivere delle orazioni che furono particolarmente note ai tempi, ma il suo capolavoro è appunto questa istituzio oratoria. Il titolo ricaviamo dalla parte iniziale dell'opera in cui nell'epistola che scrive a Trifone che è il suo editore praticamente e che come leggete nel testo gli aveva chiesto praticamente quasi ogni giorno che mettesse per iscritto dei libri e quindi pubblicasse un manuale sull'educazione. Quintiliano dice appunto in titolo a questo libro di istituzio oratorio. È un manuale di retorica che lui indirizza a Vittorio Marcello che era un funzionario a quanto pare abbastanza importante che sotto l'imperatore Traiano diventerà console ma che insomma era stato anche già nell'apparato dello Stato sotto l'imperatore Domiziano. Che cos'è l'istituzio oratorio? È un manuale si diceva che però ha una peculiarità rispetto alla tradizione latina alla quale sicuramente Quintiliano non può non fare riferimento. Nella sua struttura si dedica innanzitutto a trattare problemi di pedagogia. Il primo libro è legato all'istruzione cosiddetta elementare cioè ai primi gradi dell'istruzione e Quintiliano in questo come vedremo scrive delle cose molto importanti sulla educazione dei bambini e sul rapporto tra i ragazzi e i maestri. Nel secondo libro va più sull'aspetto didattico, sulle letture che gli studenti dovrebbero fare, sul tipo di declamazione che dovrebbero provare a proporre per esercitarsi. Poi una parte che va dal terzo al decimo libro è quella più tecnica perché va sulle diverse parti che alla maniera di Cicerone Quintiliano riorganizza e tratto ovvero sia l'invenzio cioè la ricerca degli argomenti, la disposizione, la loro organizzazione, l'elocuzio cioè il modo in cui l'orazione viene scritta e poi come vedremo fino all'undicesimo libro anche la memoria e l'axio cioè gli strumenti atti a ricordare e l'axio cioè il modo in cui l'orazione viene proposta. Da notare come nel decimo libro in un contesto in cui Quintiliano sta ragionando sulla facilitas cioè su quella facilità, su quella disinvoltura che porta all'espressione perfetta del perfetto oratore parla anche dell'imitazione e quindi fa una sorta di rassegna di autori antichi sui quali scrive anche cose molto interessanti come su Omero o su Seneca che abbiamo avuto modo anche di leggere. La parte più discussa, la parte forse più pesante anche secondo le parole stesse di Quintiliano è l'ultima, quella del dodicesimo libro in cui Quintiliano è costretto a provare a fare un ritratto per l'oratore dei suoi tempi cosa abbastanza difficile perché ai tempi di Quintiliano è chiaro che l'oratore è decisamente scaduto e vedremo Quintiliano farà una sua proposta. Dunque Quintiliano fa un progetto importante che è quello di una formazione didattica e morale ampia, didattica e morale perché appunto la precettistica tecnica, quella che dalla retorica a Derenio ma agli scritti di Cicerone si era consolidata nella tradizione latina viene sicuramente ripresa. Morale perché, come abbiamo avuto modo anche di leggere in qualche passo, Quintiliano insiste sempre sul fatto che il maestro deve avere un certo tipo di moralità e deve essere in grado di trasmetterla ai suoi allievi. Il tutto si diceva in una proposta pedagogica nuova che emerge soprattutto all'inizio nell'istituzionatoria quando Quintiliano scrive cose fondamentali sull'educazione. Il bambino deve essere in qualche modo assecondato, il bambino deve essere lasciato crescere, il bambino deve essere stimolato, vanno dosati i tempi di apprendimento, va data la possibilità anche di giocare, di crescere anche attraverso il gioco. È fondamentale l'ambiente che il bambino attorno, addirittura anche il parlare in un certo modo da parte dei genitori o di chi li segue. È fondamentale il confronto per cui il bambino cresce, il ragazzo cresce, apprende meglio in una scuola pubblica in cui c'è un confronto diretto con gli altri allievi piuttosto che attraverso un precettore. Il tutto in un rapporto nel quale il maestro, come dice Quintiliano, deve assumere nei confronti dei suoi allievi l'atteggiamento del padre, del genitore, quindi sapere come e quando correggere, sapere come e quando esaltare e quando elogiare, ma permettere soprattutto una crescita ampia della persona. Questo tipo di modello Quintiliano lo propone, lo cerca di realizzarlo attraverso il ritorno a Cicerone. Qui si vede questo tentativo di restaurazione classica o classicista, perché in realtà è poi una ripetizione di modelli e di stereotipi, forse di modelli che diventano a questo punto stereotipi, e Cicerone il punto di appoggio al quale Quintiliano guarda. Dal punto di vista tecnico si diceva la retorica del Regnum, ma la retorica di Aristote, degli scritti di Cicerone, tutta una tradizione latina e tutta una serie di esempi dell'oratoria greca che Quintiliano dimostra per esempio di conoscere quando cita De Mostene o quando cita anche i greci. Il tutto in un manuale che, se è vero che non prescinde da una parte nuda e cruda di precettistica, prova a offrire, come si diceva, un modello più ampio, una prospettiva decisamente più ampia e da questo punto di vista soprattutto gli spunti pedagogici che Quintiliano propone ci portano a osservare, come fanno tanti studiosi di Quintiliano, come in lui si arrivi in ogni caso ad una realizzazione piena e completa di quella humanitas che Cicerone aveva in qualche modo teorizzato. Cioè la formazione che Quintiliano vuole è una formazione che sicuramente mette insieme una serie di annotazioni, di competenze, di conoscenze tecniche con delle qualità morali che sono altrettanto significative nell'allievo e nel maestro. C'è da dire forse che il limite di Quintiliano in questo è sicuramente l'esclusione della filosofia da questo quadro. Il fatto che, come si è detto in epoca Flavia, la filosofia fosse stata un po' bandita da Roma e che Quintiliano sicuramente la esclude, ecco questo forse pregiudica in parte la completezza di questo tipo di modello educativo che resta comunque, si diceva, moderno è fondamentale per la centralità sicuramente dell'allievo e della sua crescita. Il problema si diceva a proposito dell'oratorica il progetto di Quintiliano a che cosa mira? Certo a formare un certo tipo di oratore, sì ma questo oratore, e veniamo appunto un po' più discorso dell'opera di Quintiliano, l'ultimo libro, questo oratore non è più l'oratore che possiamo immaginare del tempo di Cicerone. La Repubblica è finita, la maggior parte delle cause di tipo giudiziario riguardano problemi tra senatori e l'imperatore, posizioni dei senatori, i decreti che vengono discursi in Senato sono decreti che in Ia di Massia sono quelli del Princeps che il Senato deve semplicemente approvare o provare a rigettare. Quindi da questo punto di vista Quintiliano sta cercando di costruire un oratore che però di fatto diventa semplicemente un portavoce del Princeps. La sua visione di un ritorno a Cicerone è una visione che purtroppo è anacronistica perché quel modello non si può più ripetere. D'altro canto va detto pure che ai tempi di Quintiliano l'oratore era il più delle volte un delatore, cioè era qualcuno che o perché prezzolato dal Princeps o perché prezzolato da qualcuno attaccava qualche personaggio importante mettendolo in creativa luce soprattutto rispetto all'imperatore e quindi l'oratore era diventato un qualche cosa di molto più vicino ad una specie di calionnatore, di totalmente assolutamente immorale. Per cui sicuramente Quintiliano ha almeno il merito di spostare l'attenzione, di trasformare, di tentare di trasformare di nuovo l'oratore da un delatore ad un personaggio che invece se non altro provi a mantenere una sua integrità morale, una sua correttezza. Un portavoce del Princeps, difficile fare del resto in maniera diversa in un'epoca in cui, come si è detto, è il Princeps che decide. Per cui da questo punto di vista gli attacchi e le accuse che vengono amosse a Quintiliano forse non tengono conto della realtà storica del tempo in cui l'oratore più di questo difficilmente avrebbe potuto fare. Dal punto di vista stilistico si diceva che Quintiliano prova a riproporre il modello di Cicerone, il suo rifiuto dello stile di Seneca è netto, delle sentenze, della paratassi di un certo mondo di scrivere di Seneca, però è vero pure che nell'istituzio oratorio la maggior parte degli studiosi nota scarsa omogeneità, cioè nota il fatto che Quintiliano il più delle volte non riesca a mantenere una sua piena rispondenza dello stile a quello che era il modello ciceroniano che voleva imitare. Il periodo aspare spesso disordinato, i soggetti e i predicati non sempre vengono riportati. È molto probabile, peraltro, che le difficoltà e i problemi dello stile dell'istituzio oratorio nascano anche dalla mancanza di revisione. Certo, si vede dove questa revisione forse Quintiliano riusci a farla. Per esempio nei proemi si vede una ricerca più attenta della simmetria, delle scelte lessicali e delle costruzioni sintattiche.